Il mio inizio di volontaria di montaggio dopo il cinegiornale Obiettivo che produceva in luce settimanalmente fu ingaggiata sempre una volontaria perché il volontariato non pagato chiaramente era come all'epoca, come anche oggi, proprio la colonna portante di tutte le maestranze che si avvicinavano e volevano annusare il cinema. La prima montatrice con la quale entra in contatto fu Tatiana Casini Morigi. Tatiana Casini era la montatrice di Blasetti, lei montava tutti i film di Dino De Laurentiis e io andavo fino alla Vasca Navale a piedi con l'autobus perché è chiaramente così volontaria, senza veramente retribuzione, a fare l'aiuto volontario. In quell'epoca per riconoscere i tagli della pellicola si usava un metodo veramente pazzesco, medievale, con il pennino e l'inchiostro di china si numerava sul bordo della pellicola il numero del chuck, la ripresa e un numero progressivo con una barretta. La stessa cosa si riportava sul suono, sulla banda magnetica e si passavano giorni, ore a numerare e a fare e si cercano volontari per questo, chiaramente non pagati. Quindi ho iniziato con Tatiana Morigi e io mi stupivo perché ancora non sapevo nulla, io ero così, ero caduta dentro questa lanterna magica del cinema e nessuno mai ha dato spiegazioni, né mi ero interrogata, non avevo riferimenti e tutte le scoperte erano autodidatte, per cui quando vedevo che la montatrice riusciva a mettere a sistemare delle cose senza numero, girate a vuoto un documentario a dargli un senso, io ero ammagata da questa capacità, per cui ero sempre più curiosa, anche se io mi approcciavo al montaggio con un passo indietro, perché in realtà volevo fare fotografia, sono sempre stata appassionata di fotografia, sviluppavo, stampavo, facevo le fotografie, in quell'epoca sempre in bianco e nero, perché chiaramente i bagni erano un po' complicati da attuare a colore, quindi ero incuriosita dalla fotografia, ma allo stesso tempo queste immagini in movimento mi portavano dentro, poi ebbi di nuovo un altro proposto di lavoro, lavorai con Maurizio Lucidi, che anche all'epoca era interessante e curioso, diciamo tra quelli più nodi, poi mentre stavo lì alla vasca navale, cominciarono la Bibbia a lavorare, a girare, quindi parlo proprio paleolitico, cominciarono a girare la Bibbia e in quell'epoca, adesso non so come stanno i contratti nazionali di lavoro, ma in quell'epoca se c'era una truppa americana ci doveva essere l'equivalente montatore italiano, però il montatore in quel periodo che era Alberto Gallitti, stava finendo di montare un sandoga, non mi ricordo cosa, e ancora non aveva debutato ufficialmente con la troupe della Bibbia, e noi eravamo lì alla vasca navale quando ancora c'erano tutte i movioli e teatri di posa, un giorno mentre eravamo lì tutti in questi corridoi pieni di pellicola, pareti e pareti di pizze di pellicola nelle scatole di metallo, vedi arrivare dal fondo un giovanotto alla Jean-Paul Belmondo, col sigaro, sulla maglietta bianca, tutto bello sicuro di sé, e domandò, scusate, qui è il reparto del montaggio della Bibbia? E qualcuno rispose sì, così, dice, io so che non c'è il montatore e io voglio fare il montatore della Bibbia. Chiaramente si presero tutti una risata in faccia, gli dirò tutti una risata in faccia, perché c'è il montatore e non risulta al collocamento, quindi se io sono libero, quindi voglio, io mi provo un montatore, a me mi fece tanta tenerezza, capito? L'ho preso di sotto braccio, dico, aspetta, ti spiego un attimo una cosa, l'ho preso di sotto braccio e lo portai fuori, era Roberto Perpignani, che poi incontrai come montatore e io come assistente, poi siamo diventati amici, colleghi, abbiamo fatto un bel percorso di strada insieme. Questo debutto di Roberto Perpignani, che voleva essere il montatore della Bibbia, perché al collocamento non c'era ne so noi, mi rimase sempre in mente. Un altro montatore di cui rimasi veramente colpita, con cui lavorai, era Nino Baragli, che è il montatore di Sergio Leone, un grande, è stato studiato, i suoi montaggi sono leggenda ormai. Io mi ricordo che eravamo in uno studio di Via dei Villini, si chiamava la CDS in Via dei Villini, c'erano varie moviole, strutture, e io occhieggiavo sempre, perché ammiravo questo lavoro di Baragli. Lui stava montando La Mia Signora e c'era una scena, all'epoca c'era la pellicola, la moviola, come si può vedere qui anche in questa fotografia, che si caricava il nastro e si faceva il percorso. Quindi per valutare il movimento si faceva questo gesto avanti e indietro per vedere il movimento, poi si faceva un piccolo segno in corrispondenza del proiettore del fotogramma scelto e poi si faceva di nuovo con l'altra scena, con il controcampo, ed era la scena in cui Alberto Sordi baciava la mano a Silvana Mangono, poi si toglieva dal collo, che si metteva sempre al collo la pellicola, fatto il segno, tagliato, c'era la prestagatozza ormai, anche se si poteva sbagliare, fatto un segno, tagliato, provato, io rimasi a bocca aperta, one shot, un colpo solo, aveva fatto il baciamano senza ripetere, senza ripensare, e questo mi infolgorò. Invece di Chimmar Calli, che è il montatore di Bertolucci, con il quale ho fatto da assistente un lavoro, si chiamava il caso Pisciotta, di Riprando Visconti, lui mi destabilizzò, perché doveva fare un piano di ascolto durante un dialogo e normalmente si cerca l'immagine più adatta, l'espressione più alta, ma si sceglie a secondo il gusto e l'intenzione di fornire. Io vidi Chimmar Calli farese anche lui questo gesto di Nilo Baragli, così, poi prese il primo piano, che era di Tony Musante, fece una cosa tipo un metraggio di pellicola, così, tagliò e lo inserì, cioè lo fece proprio a metro, quindi o aveva veramente l'illuminazione tra le dita, oppure, non so, rimasi anche lì folgorata, e lui era simpatico, era molto simpatico, mi diceva calma, calma, vai piano, adesso prendi il taglio, lui la montava sempre con una caraffa di champagne nel frigo, la fianco, era veramente una persona che sapeva godere della vita. Grazie a tutti.